Signori e signori, buongiorno! Ci sono molti segreti a Valais. Devi lasciare in pace Brian! Hai capito? E questa cos'è? Ah no, questi sono i tuoi capelli. Top Secret. Si, Top Secret, avanti! Dai, dimmi qualcosa. Sei bella, affascinante, stupenda. Puoi avere tutto quello che vuoi. Basta volerlo. Mendi. E ora che ti danno mossa. Brian! Brian! Caspica, dai! Lasciali qua! Caro, dai! Cosa succede? Ascolta, vuoi un massaggino? Brian, mi piace! Stefano, tutto a posto! Ma vieni qui! Ma vieni qui! Ma vieni qui! Ascolta, davvero non è rimasto. Carola, per favore, vai! Non lo devi toccare! Non gli devi torcere un capello! Io lo voglio per me! Per me! Per me! Per me! Comincio a vedere un po' caldo! Io sono freddo! E io sono freddo! Io sono freddo! E io sono freddo! Io sono freddo! Io sono freddo! Io sono freddo! avanti avanti il prossimo ma che succede? ci voleva anche questo che noia no, no, mi farebbe troppo male ricordare no, 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 che ero là, no, 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 no mamma mia aiuto, aiuto ma basta, basta basta, basta, basta basta bella coppia combattiamo ma riusci dalla mia vita basta non possiamo amarci non possiamo amarci ma no, mi accorgo ma è no per me gli uomini sono tutti uguali io la faccio finita io la faccio finita amicizia amicizia ma perché la gente non capisce che al cuore non si comanda acqua purificami purificami dalle sofferenze lavami lavami dalla mia tristezza rendimi pura ebbene sì la verità la vuoi a me piace meteo ora sì che sto proprio bene sono felice sono felice bravo, bravo non intiende l'isabetta non comprendes che io scherzo facciamoci valere perché noi siamo donne diamoci una svegliata è proprio vero che la pazzia affascina le persone sane di mente condividete dimenticavo io sono Dominic